Messa al fondo per i padroni di casa, Zugno riceve ancora il pallone, deve uscire dall'area, si appoggia su Guley e prova Carroll! Una buona, anzi di un'ottima stagione, tanto secca, il suo primo pallone perde il possesso, recupero di Carroll, prova Guley e Dwayne! La sfera e quindi il rimbalzo di Carroll che prova ad attaccare tutto da solo, passa la palla a bozzetto, che da sotto non può far altro che appoggiare. Forse è appunto troppo tardi, adesso Guley è già con i piedi rivolti verso canestro, quindi una buona ricezione, attacca e realizza con un altro grande gesto atletico. La palla è di Mascolo che prova ad attaccare uno contro due, grande stoppatona di bozzetto, può ripartire in contropiede, quindi la Bergamo basket! Diciamo che sta un po' giocando con questa partita a Bergamo, tanto Carroll cerca la schiacciata! Zugno riesce a sbucare in mezzo alla difesa. Zugno si appoggia su Costi, Carroll, all'Odi, altra tripla, alla mano calda! Si conclude con un nulla di fatto l'azione offensiva di Tortona, altra tripla questa volta del numero 10, del giovanissimo numero 10, Parravicini!